Gerardo Colombo ha scritto un libro sulle regole. Perché questa urgenza? Perché si deve partire dai giovani per fare coscienza civile? Perché le regole si osservano soltanto se si capiscono e si condividono. E quindi è necessario, secondo me è indispensabile, per incominciare dai ragazzi che hanno la mente più libera rispetto agli adulti, i quali hanno una storia dietro le spalle, fanno molta fatica a cambiare opinione, mentre i ragazzi sono molto più aperti perché di storia dietro le spalle ce ne hanno molto meno. E allora questo libro, questo in questa occasione, che si chiama Anche per giocare servono le regole, è appunto un libro che è indirizzato ai ragazzi perché possano entrare nel senso delle regole e riuscire a capire che quando non organizzano la società in modo che qualcuno possa e gli altri debbano, insomma quando organizzano la società secondo la nostra Costituzione, ebbè permettono a tutti di realizzarsi tanto quanto di altro. Cosa sta imparando dai ragazzi? Tantissime cose, tantissime cose, è perché secondo me comunque il dialogo, io dialogo con i ragazzi, non faccio delle lezioni fortale, il dialogo è un metodo attraverso il quale le cose passano di qua e di là e di là e di qua, e quindi dai ragazzi si aprendono tante cose. Vede, peraltro io ho 75 anni, il mondo da quando ero ragazzo io è cambiato molto, molto, moltissimo, no? E quindi ci sono anche nuove competenze che prima non c'erano, tutto il digitale per esempio figurarsi, ma ci sono, si sono anche perse delle competenze che prima esistevano, per esempio io quando avevo 18 anni aggiustavo tutto quello che si rompeva, adesso quello che si rompe si butta via, ecco, si impara tanto, come da qualsiasi relazione alla fine fine.